ciao buongiorno ho inserito quest'anno dei vestitini questa è viscosa molto fresca una viscosa di qualità manichina in organza molto estiva molto fresca questa bellissima fantasia il caftano molto bello che ha una stoppa molto particolare ricamata più in righieri molto chic questa maglietta sempre in viscosa semplice ma ha la particolarità che ha questa manichina sempre in organza mezza manica è la novità di quest'anno che l'anno scorso ne avevo la particolarità di questa camisa cento per cento cutone alla taschina laterale taschine laterali versione azzurra e bianca cioè quest'anno ho inserito un'altra un'altra novità la marca ng6 un po particolare sempre ng6 questo bellissimo è una maglietta diciamo che è una maglietta particolare in pezzo trasparente la rusa sulla manica al posto del polsino una camicina fotone denim sempre la mani mezza manica palloncino andiamo alla seta questa è una chicca una bella camicia in seta pura seta al cento per cento particolare stupendo in questa versione nera anche sempre seta al cento per cento molto bella colori solari sempre in seta una bellissima camicia anche questa doppio filo ritorno si può portare benissimo anche tutta aperta con una t-shirt sotto e del signore molto bella anche questa può portata sempre morbida sopra al pantalone manicato per questo mese diciamo che questa è la linea 2019 e l'ho scontata tutta al 50 per cento molto bello anche questo il tessuto spettacolare c'è molto un po più lineare bianco con una fantasia blu spettacolare per chi osa un pochino lino cotone coreana bianca sempre lino cento per cento ce l'ho anche nella versione azzurra molto richiesta l'anno scorso e non l'avevo di sposa piazza mare sole nuovo blu della caliban l'anno scorso era questo blu base quest'anno l'hanno rinnovato un attimino la classica bianca e quest'anno molto bella anche questo vino cento a righe filo ritorso collettino mezzo francese veniteci a trovare perché ho di tutto il di più ciao 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 ciao